Miss Creamy Creamy, la 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 Miss Creamy Creamy presenta le domande che potrebbe farti un uomo dopo un uso prolungato di Fresh Press by Clinique Dani, hai fatto qualcosa di diverso? Dani, hai fatto le mesh? Dani, hai una luce strana negli occhi cosa hai fatto? Dani, stai benissimo, è nuova con la maglietta Varianti di queste domande potrebbero essere ma sei dimagrita? oppure la primavera si fa proprio bene hai tagliato i capelli? hai provato un nuovo trucco? in realtà avrai semplicemente usato i prodotti Fresh Press by Clinique che è un anti-age dagli effetti immediati si compone di un detergente viso in polvere e un attivatore del trattamento con il 10% di vitamina C ogni prodotto è attivato nel momento dell'utilizzo perché ovviamente la vitamina C tende a degradare nel tempo per il detergente basta versare la polverina nella mano attivarla con un po' d'acqua massaggiare fino alla formazione di una schiumetta morbida e poi massaggiarla su tutto il viso come un normale detergente massaggiate su viso e collo per qualche minuto lasciate agire per un minuto per far assorbire la vitamina C e poi sciacquate in modo più aggraziato di me possibilmente e detergete con un panno quanto riguarda l'attivatore togliete la pellicola non togliete il tappo premete per bene per due volte per rilasciare la vitamina C che è in polvere e si libererà all'interno della cremina mixate quella cremina che ottenete al vostro normale idratante e datelo su tutto il viso la pelle risulterà subito più luminosa grazie alle proprietà antiossidanti della vitamina C più compatta grazie all'acido salicidico che promuove il rigeneramento cellulare e con meno sebo grazie all'argilla bianca nota per le sue qualità purificanti dalla prima applicazione possiamo notare un 36% di luminosità in più dalla quarta settimana un 32% delle linee sottili in meno dalla dodicesima settimana ben 43% di ruga in meno per quanto riguarda gli uomini non possiamo pretendere che notino queste cose ma apprezziamo lo sforzo se utilizzi anche tu Fresh Press posta la tua foto su Instagram con gli hashtag Fresh Press e 7daychallenge e mostraci i tuoi risultati grazie a tutti ciao alla prossima